buongiorno oggi andiamo a montare inverter e batteria su un impianto fotovoltaico in questo caso oggi vedremo batterie di nuova generazione della huawei cioè le nuove batterie da 7 kilowatt che sono un po più larghe un po più un po più grandi di quelle da 5 è il nuovo modello della huawei e siccome sono arrivate queste qua le andiamo a montare quindi inverter e batterie andiamo buongiorno amos buongiorno allora inverter l'abbiamo montati già tutto quanto cablato adesso andiamo a montare qui le batterie mettiamo i meter che andranno qui e continuiamo poi mettiamo i meter qui buongiorno a tutti siamo in ancona da un cliente abbiamo montato questi due inverter della huawei rifatti collegamenti da parte vecchia ora qui nel quadro elettrico in questa posizione monteremo i due meter di tutti e due gli impianti e proseguiremo in queste zone a montare la batteria a dopo allora abbiamo spacchettato abbiamo messo le maniglie perché se no non riusciamo a portarla attendo le cose le fate male allora abbiamo i coperchi batteria montata adesso vediamo smontiamo questi poi ci mettiamo il bms allora bms montato adesso andiamo a montare la seconda batteria eccola qui vedete è un po più larga del solito quindi adesso il montaggio secondo batteria e poi andiamo a fare il cablaggio amos questi come li mettiamo a pettine pettine ecco stiamo facendo i cablaggi un po di canarini mettiamo per dire l'impianto e poi mettiamo in funzione allora adesso montaggio del meter batteria e montate un po attiviamo e via allora abbiamo montato tutti gli inverser le due batterie adesso andiamo a impostare l'inverso uno e l'inverso e due e andiamo a configurare e li mettiamo in funzione quindi prendiamo la nostra solar solar app inquadriamo il QR code ci vuole un po di tempo eccolo ecco mettiamo la password ecco qui andiamo a fare l'installazione lo configuriamo e poi mettiamo in funzione l'impianto allora adesso l'impianto è andato in funzione come vedete qua ci sono tutte e due le lucette fisse quindi significa che l'impianto funziona anche questo poi vediamo qui le batterie che già stanno caricando eccole e adesso vi faccio vedere come va l'impianto l'impianto adesso sta producendo 3 kilowatt fate conto che questo è un 6 però c'è anche brutto tempo quindi è normale sta dando tutta la batteria e una piccola parte sta dando alla rete elettrica quindi l'impianto finito tutto bello montato tutto preciso questi sono i fili dell'enel che stiamo aspettando che venga e tutto a posto come si dice Amos le gesto un fè rettine ok ok